Michele Righi di Mickey Righi Tecno Solutions. Si sta per concludere il corso sulla privacy qui in Televista. Quali le sue impressioni? Sicuramente è una tematica molto importante da affrontare anche per l'installatore stesso, anche se non è un discorso prettamente tecnico, ma essendo un discorso legale alla fine è determinante avere anche queste nozioni nel proprio bagaglio di competenze perché innanzitutto ci possono tutelare in prima persona e possiamo poi in questa maniera anche spendere queste competenze nei confronti del cliente finale per tutelare anche esso stesso. Io credo che questa può essere la differenza sostanziale tra un vero professionista della sicurezza e chi invece si raffazzona nel settore, che purtroppo ce ne sono molte persone che purtroppo si comportano in questa maniera. Diciamo che la mia filosofia è proprio questa, quella di cercare di dare il massimo servizio al mio cliente a 360 gradi, non solo a livello tecnologico ma anche a livello giuridico legale.